Sì, Giorgio, ma stai perdendo i capelli? Quando il capello perde la sua radice, quando il bulbo non prolifera più capello, praticamente quando il melone fa la sua comparsa, è allora che bisogna porre un rimedio. Rivolgiti con fiducia all'Istituto Scozzetto e il melone ritorna perfetto. Qui a tua disposizione applicazione di capelli a mano, che potrai lavare anche la lavatrice. Alcuni esempi pratici, capelli sindetici, trorepellenti, capelli di lana per i freddolosi, capelli foforesceni per chi lavora di notte, capelli con gelatina, capelli con forfora naturale, capelli gialli, capelli verdi, capelli rossi, capelli tricolore per i patriottici, capello azzurro per il tifoso, capello arezzato per chi sta arrabbiato, capelli a puone disponibili con varie tinte di colore, capelli autodiscaldanti per chi ha dolori di reumatismo, capelli paiettati per le tue serate magiche, capello rosso alla Biscardi, capello biondo alla Carrae, capello bianco alla Don Armanto, il mio guardia forte. Hai un diavolo per capello? Gettalo! Con l'Istituto Scozzetto il tuo melone ritorna copetto. Giorgio, ma come fate i capelli? Sono stato da Scozzetto e mi hanno fatti i servizietti.